Carissimi amici del canale YouTube e Telegram, quest'oggi vi vorrei parlare dei veri numeri scioccanti che un medico con migliaia di pazienti ha deciso coraggiosamente di rendere pubblici. Mentre guarderanno il video, alcuni potrebbero rimanere perplessi da una discrepanza così notevole rispetto ai dati ufficiali. Ma una ragione, non l'unica come vedremo, di differenze così grandi è data dalla mancata sorveglianza attiva sugli eventi avversi. In tutto il mondo ci si limita, sempre per i motivi che vedremo, alla vigilanza passiva. Quindi i dati raccolti da VAERS negli Stati Uniti e da Eudra Vigilance in Europa sono di gran lunga sottostimati quando si parla di eventi avversi ed eccessi. Interrompiamo qui il video nel rispetto delle norme di YouTube che potrete visionare in maniera integrale e senza censura sul nostro canale Telegram Dentro la Notizia. Iscrivetevi gratuitamente per non perdere le verità che sul mainstream non si possono dire. Carissimi amici del canale Dentro la Notizia, un vivo ringraziamento a tutti voi che ci avete aiutato a superare i 133.000 iscritti su YouTube e oltre 120.000 iscritti su Telegram e a offrirvi quotidianamente un'informazione intelligente a tutela del popolo. Se lo desiderate potete dimostrare di apprezzare il nostro lavoro a beneficio di tutti con una donazione. Chi fosse poi interessato a sponsorizzare la propria azienda su questo canale può contattarci tramite le mail in descrizione. Per essere avvisati sull'uscita dei nostri video iscrivetevi su YouTube e su Telegram. Mettete un like, attivate la campanella e condividete il video. Più siamo più forza avremo. Uniti si vince. Un abbraccio dal vostro Roby